Del pilastro è possibile modificare diverse caratteristiche. Dal catalogo possiamo scegliere il tipo di sezione e le dimensioni. Mentre per il pilastro in acciaio sceglieremo il tipo di profilo e la dimensione. Definendo l'altezza possiamo scegliere se mantenere fisso il punto al piede o in testa al pilastro e se spostare anche le entità collegate. Possiamo poi nell'apposito campo definire un angolo di rotazione e del punto inferiore modificare la posizione in pianta e la quota. Nella sezione funzionalità possiamo definire come visibile al piano superiore la sagoma del pilastro e modificarne le coordinate in pianta. In sistema di riferimento altimetrico associamo la testa o il piede del pilastro ai livelli o ai sub-livelli. Possiamo anche impostare una differenza di quota rispetto al livello selezionato inserendo un valore del delta. In ultimo è possibile modificare il materiale del pilastro scegliendo tra quelli proposti nel catalogo. Scegliendo le pieglie di video ma